ciao a tutti in questo video vi faremo vedere come mixare una canzone con virtual djm7 useremo due canzoni you make the change di zatox che è una canzone alzheimer e candy shop di 50 cent una qua e l'altra qua, queste qua sono le due basi che noi andiamo a mixare ok questo programma è un programma a pagamento perchè per 30 giorni lo potete usare gratuitamente e poi dovete comprare la full version ok partiamo subito con il mixaggio ciao a tutti Grazie 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 a tutti